Viene da Salermo, porta la firma di Andrea Ricca. Con una telecamera mini-DV e un programma di animazione 3D è riuscito a far interagire in maniera efficace l'attore in carne ed ossa con la creatura virtuale creata al computer. La sceneggiatura ha fatto il resto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.